Non lasceremo mai solo nessuno, ma servono soluzioni urgenti per rispettare l'articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute, così le federazioni che rappresentano 31 professioni e oltre 1,5 milioni di operatori, nell'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Quirinale. Gli operatori hanno anche illustrato i problemi legati alla grave carenza dei professionisti e chiesto azioni per intervenire non solo sul reclutamento, ma anche sull'incremento dell'attrattività delle professioni sociosanitarie. L'aumento esponenziale della popolazione anziana e dei malati cronici impone nuovi modelli organizzativi da adottare in ospedali e sul territorio. Grazie